Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un solo money glitch o meglio l'after patch del money glitch che c'era fino a ieri allora per fare questo glitch ragazzi dovete chiamare prima il blazer acqua io qui chiamo anche il centro operativo prima per chi volesse per esempio fare il glitch diciamo con la targa pulita lo dovete chiamare prima il centro operativo per poi fare tutto il resto vedete qui è arrivato il centro operativo e passiamo al bug ragazzi allora il bug è un bug che diciamo non dico l'ho scoperto io non dico che è un'esclusiva perché non lo so magari qualcun altro l'ha scoperto però io lo conosco da parecchio lo conosco da parecchio questo bug lo provavo con dark glitch stavamo provando quando fu patchato precedentemente e io avevo scoperto questo bug per bugare lo stile infatti oggi pomeriggio su telegram vi ho mandato un breve video per farvi vedere allora dovete avere un veicolo Pegasus da poter richiamare dalla segretaria ragazzi questo è il mio metodo poi voi se ne avete altri fate voi io in questo caso uso il tactical ovviamente tutti avranno un veicolo da richiamare dalla Pegasus dopodiché aprite per due volte il telefono colpito musdei premete freccia destra e ve ne andate immediatamente sul veicolo da richiamare ragazzi quando sentirete il rumorino perché si sentirà un rumorino il classical down che vi sta in pratica immettendo nella nella sala dovete premere in fretta in fretta x due volte x x x in pratica adesso andiamo a vedere ragazzi come avete sentito si è sentito il rumorino ragazzuoli io in pratica ho premuto due volte x rapidamente e mi ha fatto l'animazione a questo punto quando ci fa l'animazione il bug non è finito perché altrimenti non ci buggerà definitivamente che cosa dovete fare dovete correre verso un'attività io corro di solito verso questa in maniera che mi si bugga lo stile io questo qui l'ho provato sotto l'arcadius sto cercando di perfezionarlo questo glitch quindi abbiate pazienza spero domani di portare qualcosa di migliore ragazzi quindi a questo punto avete visto che lo stile è buggato prendiamo il nostro blazer acqua e andiamo allo santo scastom e facciamo il solito passaggio di cambiare la targa allora ragazzi purtroppo non sono riuscito a trovare una continuità per questo glitch nel senso che non potete farlo di continuo lo so che gran cazzata che gran cazzata sì lo penso pure io però già è tanto che sono riuscito a trovare un modo per buggare o stile in questa maniera sinceramente non so se ce ne sono altri in giro di modi però io ho trovato questo e vi ho portato questo e a questo punto ragazzi ogni volta che dovrete fare una duplicazione dovete fare il passaggio della segretaria quello che vi ho fatto vedere ripeto non è un'esclusiva questo glitch l'ho scoperto io però non è un'esclusiva perché comunque tutto il resto del glitch io ho scoperto solo air bug quindi tutto il resto del glitch già c'era non mi voglio più a meriti di un cazzo insomma quindi a questo punto ragazzi che fate salite sul veicolo premete la freccia destra entrate dentro il vostro meccanico una volta che siete dentro al meccanico fate un cambio targa ovviamente usate targhe personalizzate o come avete visto all'inizio del glitch se chiamate il centro operativo con una LG RH8 dentro ok ragazzi potete fare le targhe pulite dopodiché scendete dal veicolo come avete visto e risalite nel veicolo oramai è vecchio come il cucco se non ve lo siete imparati mo' andatevi un affanculo regà quindi uscite dal dall'officina e vi trovate nel garage ragazzi come avete visto le auto sono buggate abbiamo il nostro clone a questo punto ragazzi che e lo stile è ancora buggato però purtroppo non riesco a diciamo a portarmelo avanti questa cosa dello stile perché se io per dire appena ho finito di fare questo glitch mi metto lì e richiamo un veicolo speciale o un altro veicolo un qualunque altro veicolo di questi che servivano per fare il glitch non compare in mappa quindi non potremo vederlo non potremo portarlo allo Santos Custom e non potremo portarlo da nessuna parte ho provato con il Tactical a metterlo dentro al centro operativo mobile con l'officina però non si bugga ragazzi anzi non è che non si bugga si bugga pure il ciborio romano si bugga tutto si inchioda al gioco quindi non lo fate quindi a questo punto una volta che siete tornati su avete visto che c'è l'auto in strada mi sto prendendo queste libertà de parola de esprimeme perchè comunque tanto il glitch lo conoscete solamente il primo passo è un after patch perchè tutto il resto del glitch è quello di sempre una volta che siete in strada prendete il vostro clone lo rimettete nel garage nel garage pieno ragazzi ok? allora raga non mi cominciate a domandare ma se io con la segretaria richiedo l'elicottero se io richiedo no se richiedi l'elicottero ti manda sul tetto e poi non c'hai il tempo di fermare il conteggio quindi dovete richiedere un veicolo da terra chi è che non ha un veicolo da terra con la pegasus penso tutti ragazzi mi raccomando richiedete un veicolo da terra come avete visto il veicolo da terra era sotto sotto l'arcadius insomma e niente ragazzi abbiamo duplicato che altro aggiungere nulla detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti ciao 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 ciao